A Caracolito a Ponte d'Era abbiamo aderito a Donacod per dare la possibilità alle scuole di usufruire di questi buoni che danno poi la possibilità di avere un accumulo economico che possa aiutarli a affrontare delle spese classiche. I buoni Donacod sono dei buoni che si possono raccogliere in tutti gli esercizi commerciali che aderiscono a Donacod. I buoni Donacod qui da Caracolito si possono raccogliere semplicemente consumando in percentuale alla consumazione in base alla spesa che si effettua. Sulla caffetteria c'è il 5%, sulla spesa della pausa pranzo c'è il 5%, sui prodotti confessionati abbiamo il 3%, sui frullati e le centrifughe di frutta e verdura fresca c'è il 5%, sulla pasticceria abbiamo il 3%, sui prodotti da bar in generale abbiamo il 5%. Per utilizzare Donacod basta scaricare l'applicazione sul cellulare e registrarsi con i propri dati mail e il numero di telefono. Per richiedere i buoni Donacod qui da Caracolito è semplicissimo, quando si arriva la cassa mi chiedete i buoni e io vi chiederò il numero di telefono. Per donare i buoni Donacod dalla scuola è sufficiente dare il numero di telefono della scuola. Quindi scaricate l'app, registratevi, venite da Caracolito.dera, chiedete i Donacod e le vostre spese scolastiche costeranno meno.